Bocche cucite al termine del primo vertice sull'Ilva che si è tenuto al Ministero dell'Ambiente fra il neoministro Gianluca Galletti, il commissario Enrico Bondi, il subcommissario Edo Ronchi. Nell'opera di risanamento ambientale dell'Ilva di Taranto c'è il massimo impegno del governo. Ambiente, salute e lavoro camminano insieme. Si è limitato a commentare su Twitter il ministro. Galletti e i suoi interlocutori ha sottolineato la volontà di proseguire nel percorso avviato per il polo siderurgico tarantino. Nel corso della riunione, spiega una nota del di Castero, Bondi e Ronchi hanno illustrato al neoministro la complessa situazione degli impianti e gli interventi necessari per proseguire nell'opera di risanamento dell'Ilva delineata nell'autorizzazione integrata ambientale e nel piano ambientale in via di definitiva approvazione. Piano che in realtà, come previsto dall'ultima legge del febbraio scorso, avrebbe dovuto essere presentato entro oggi ma la crisi del governo Letta lo ha fatto slittare. Si tratta di interventi col duplice obiettivo della tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e della continuità produttiva per i quali bisognerà trovare circa 3 miliardi di euro entro due anni e mezzo prima cioè che decada l'autorizzazione ambientale. Il ministro Galletti e i commissari Ilva hanno concordato di rivedersi a breve per approfondire ulteriormente le tematiche ancora aperte e confrontarsi sugli interventi in via di definizione.